Benvenuti al meteo. Il mese di settembre inizia con un'atmosfera alquanto instabile. Avremo ancora qualche fenomeno sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì risulterà piuttosto nuvolosa, lo vedete. Al mattino avremo occasionali piovaschi sparsi, ma via via in esaurimento. In pianura non si escludono dei momenti più asciutti con schiarite al pomeriggio, mentre sui monti saranno possibili ancora dei rovesci. Temperature in locale calo, minime tra 14 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi, nel pomeriggio qualche pioggia sparsa e qualche isolato rovescio o temporale. Temperature minime sui 17-19 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà piuttosto variabile. Avremo maggiori schiarite che saranno però alternate a nuvolosità e a qualche acquazzone. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.